Desidero ringraziare davvero tutti di cuore, tutti i follower, i fan e tutti coloro che credono nella mia arte, nelle mie poesie, nella mia anima che è ispirata dall'infinito, dalle stelle, dall'universo e dall'immensità che avvolge tutti noi. Ma questo ringraziamento va comunque in questo specifico momento a Pinterest, Pinterest e a tutto il suo staff, gli amministratori che mi hanno consentito di poter divulgare davvero le mie poesie e la mia arte. Grazie davvero di cuore, dal profondo dell'anima, l'anima di un uomo, di un padre, di un poeta, di un essere che vive anche per scrivere e per declamare e per cantare. Grazie, Walter Infinito.